Il primo è l'unico rinforzamento che si sono notati. Quando stai per aprire il cubo, si svuota prima una parte e poi l'altra. E i camionisti quella cosa non gli piacerà fare. Adesso ti spiego il perché. Forse perché ha quella lana per i quali. E la fa vendere. Grazie.